No, non ho fatto partire neanche un filmato Allora adesso? Sì, adesso lo sto facendo Spettacolo, sta caricando il suo carico Ecco lei franca E' spettacolo Sembra una grossa papera Wow Una cosa così dal vivo ne l'avevo mai vista Ecco che è ben basso, sfiora proprio la terra Ma quando l'uno si è al lago Per 6 km Eh, cosa devo dire Ma vedi ancora, è laggiù che gira Un bello spettacolo Però adesso io vado in macchina perché fa un po' freddo E' da schifo E' da schifo E' da schifo Grazie a tutti.